Se sei stato ceduto all'Asti, vuoi lasciare un messaggio ai tifosi, alla società, al mister? E' sempre difficile uscire da un posto in cui fino a un punto fa ti senti bene, no? Allora, vorrei ringraziare a tutti il modo con cui mi hanno sempre accolto, con cui mi sono sempre stati vicini. Vorrei lasciare un forte abbraccio a tutti, siccome so che alla fine non potrei... ringraziare per un abbraccio forte a tutti, sia mio che da parte della mia famiglia. Noi siamo contenti per tutte le amicizie che abbiamo fatto, per tutto che abbiamo vissuto qui. Senza fare nome voglio soltanto ringraziare, ringrazio a Dio per il fatto di aver vissuto ogni giorno qui. Adesso è una nuova strada. Il cammino si divide, però l'amicizia penso rimanda. Domenico, sabato, giocherai quasi sicuramente. Vorrei lasciare con un gol la squadra di Putignano. Io vorrei lasciare con una vittoria, penso sia il più importante, anche se l'organico sembra essere un po' corto perché Piffer ha ancora dei problemi, Thiago forse ha qualche fastidio. Allora penso che una vittoria sia importante per il seguito del campionato, lasciare una buona impressione. Anche se non è in questa partita che devo provare il lavoro che è stato fatto, è stato fatto. Questa partita è importante come sono state le altre. Un'ultima domanda. Pensa che lo Sport5 potrebbe vincere questo campionato? Se questa domanda fosse fatta il sabato sera dopo la partita, come conoscente di... E' tu! Io sono sicuro che il campionato ti ringrazio. Ti ringrazio e in bocca al lupo per il seguito della tua carriera. Grazie, un abbraccio a tutti.